Buonasera, benedizione straordinaria per una notizia tragica che colpisce tutti noi della RAI. Il 20 marzo 1994 Niente armi, niente guerra e niente soldi Si è spenta una voce E' quello il nostro aereo? Sì, e serve anche per gli aiuti umanitari. La voce della verità Non può essere Il primo docu cartoon Ispirato a una storia italiana realmente accaduta Somalia 94, il caso Ilaria Armi